Salve, vi ricordate di questa clip? Mamma mia! Oh mio Dio! Bene, sono qui per annunciare che stasera torneremo. Io e la mia fidanzata. E se andrà bene, come penso che andrà se YouTube funzionerà, sarà una cosa che continueremo ogni mercoledì. Quindi sarà il mercoledì horror. Appunto sperando che vada bene. Sono abbastanza casato per questa cosa perché mi diverte tanto. A lei no, però sì. Poi ci saranno anche un sacco di clip da poter mettere negli shorts, provare a mettere anche su TikTok. Quindi non vedo l'ora. Stasera dalle 9 e mezza penso, o un pochino più tardi. Non so quanto durerà, penso un'ora e mezza. Massimo, massimo due. Siateci, YouTube Luigi Medi. Sempre si va. Se non dovesse funzionare, si va su Twitch. Ma spero che funzioni. Bene, ci vediamo lì. Ciao! 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 Ciao!